Il suo primo pezzo, non vi avevo detto, scusatemi, si chiama Lift Up Thine Heart and Rejoice, in italiano sarebbe Alzatevi il cuore gioite, credo. E spesso volentieri questo tipo di musica viene suonato nelle chiese americane, forse un po' diverso. Il secondo pezzo che vogliamo fare è un pezzo per trombe e pianoforte, è di Carl Hoon, che era un tedesco, è un pezzo secondo me molto bello, però è anche strano, un po' pazzo, nel senso che è scritto da un tedesco e si chiama Fantasia Slava. Già sembra strano che un tedesco scrive questo. Poi come pezzo mi sembra un pezzo italiano, potrebbe essere scritto da Donizzetti o Bellini, insomma mi sembra quasi un'aria da un'opera. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.